Ora, il lotto di 200 milioni, tu pigli e tu. Quello di 250 è per la stella. Ave una figlia che si deve meritare e ci va a fare una bella dote. Il lotto di 50 milioni lo lasciamo ai fratelli della buonanima di Salvatore Colas Berna. Il nipote del vescovo, Martino, ci sperava. Non lo voglio rovinare, il nipote del vescovo. Il lotto da 50 milioni è per i fratelli Colas Berna. Per scordare se è morto non c'è niente di meglio. Che le difficoltà economiche. Ci rimetteranno l'osso del collo, ogni giorno avranno un'ispezione, un controllo e poi ogni tanto anche qualche piccolo incidente. In quanto a Martino cedo l'appalto della spazzatura. La spazzatura rende molto. Veramente, senza uffesa, l'onorevole quell'appalto l'aveva promesso a mio cugino. L'onorevole non deve promettere niente, disponesse solo per gli affari suoi. Che qui dispongo io e lui dispone a Roma. Per me va bene. Va bene. Magari per me va bene. Anche per me.